ci troviamo a la sassa nel comune di monte catini val di cecina il borgo è una chic qualcosa di fantastico e semmai vi lascio il link per andare a vedere il video che già avevo fatto qui più che altro oggi sono qui per raccontarvi la leggenda della statua del redentore eccola qua la statua del redentore dovete sapere che la statua non è sempre stata qui la statua del redentore è stata ritrovata dai cacciatori nel bosco a dire la verità prima parlavo con un signore che abita proprio qui alla sassa e mi diceva che lui aveva la terra e c'è il punto ben preciso dove è stato ritrovato quindi è una storia barra leggenda si dice che questa statua è stata ritrovata sì nel bosco da cacciatori l'hanno presa perché questa statua era bella e loro hanno visto questa bella statua dice si prende se la sono messa a spalla e l'hanno portata a casale marittimo quindi questi cacciatori contenti dicevo si è trovato la statua si è trovato la statua erano tutti contenti matti quando poi si sono svegliati la mattina e la statua non l'hanno più trovata qui alla sassa sono venuti a sapere di questa cosa si sono riuniti tutti insieme sono partiti in processione e sono andati a prendere la statua ma questa volta hanno preso anche il piedistallo che si trovava sotto la statua che i cacciatori invece avevano lasciato lì l'hanno presa e l'hanno portata qua nell'oratorio della sassa l'hanno messa lì e si dice che da quel giorno ebbero luogo diversi prodigi dice che gli abitanti del paese venivano a pregare alla statua nei mesi di luglio perché piovesse e sono sempre stati accontentati noi uomini siamo così siamo sprecisi si sa infatti i cacciatori avevano lasciato lì piedistallo sulla roccia hanno preso la statua e basta le donne invece del paese precise le donne tutte belle precise hanno detto ma ragazzi ma che fate cioè prendete la statua ma dove l'appoggiate ci vuole il piedistallo il su piedistallo